Studio 7 TV e Sport Piccelo Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della Contata Domande a cui non so rispondere Gesti che non so difendere Soffro di uno stato di agitazione che non so comprendere Benvenuti a una nuova contata, abbiamo ospite un gradito ritorno In realtà da solista, prima l'abbiamo cosciuto con la band Adesso l'abbiamo cosciuto da solista, Stefano Attuario E a questo punto la domanda che ci sono di spontanea In un anno, com'è cambiato? Soprattutto ci sono tanti cambiamenti a questo fondo per Stefano E come ce li descrivi questi cambiamenti? Innanzitutto ciao a tutti e grazie di nuovo per avermi rinvitato La tua trasmissione con un enorme piacere Cambiamenti è innegabile che ci siano Se prima si faceva parte di una band Adesso me la canto e me la suono Prima ero chitarrista dei Dinamica E partecipavo alla scrittura di testi, musica Insieme a tutto il resto della band A un certo punto però capisci che forse devi fare qualcosa di... O meglio, sentivo di dover fare qualcosa di diverso E qualcosa che mi appartenesse proprio personalmente Cosa che era incompatibile in quel momento presentare alla band E allora mi sono messo, come si dice, in proprio E ho iniziato questa avventura È iniziato tutto dopo Sanremo Rock Alla quale abbiamo partecipato con i Dinamica E dopo aver ricevuto un... Insomma, una bella soddisfazione Quella di essere arrivati in finale Per Sanremo Live in the City E poi non riuscire a partecipare per altri motivi Però diciamo che quella è stata un po' la miccia Che mi ha fatto scendere un po' l'idea di Ok, se voglio andare avanti Devo... Cioè, meno persone hai Se ti vuoi porre dei progetti O comunque dei traguardi Se non siamo tutti sulla stessa linea Diventa un po' difficile E quindi ho deciso di fare questo lavoro da solo In questo mondo parliamo di questo disco di debutto Che è un viaggio nella profondità del... È questo Nemesi Che poi dà il brano, dà il titolo all'album È un brano poi anche difficile Perché è diverso da tutti gli altri Mentre l'album Nasci in Rock Nemesi è parlato Sì, in realtà è un... È un concept Se così mi puoi passare a questo termine di questo album Perché sono una serie di... Di evenimenti Di esperienze Di vissuto E di sincerità Come dico sempre Perché quando... Si scrive qualcosa Bisogna essere sinceri, no? E... E quello che ho passato L'ho trasmesso attraverso le mie canzoni Per questo dico che Sarebbe stato difficile poi Prendere quello che era un mio aspetto personale Darlo al cantante E darlo ad altri quattro membri E dire ok cantate Anche perché io fino a ieri non ho mai cantato Ti ripeto Ho solo fatto il chitarrista E quindi Vedendo questo album come un concept E quindi Avendo un percorso Come si iniziava Come si facevano una volta Gli album degli U Giusto per citarne qualcuno C'era la storia di Tommy In Nemesi c'è un po' La storia di Stefano Attuario Che è un Tommy sconosciuto Al quale si apre E si racconta Nemesi Lo considero Un lavoro Che mi ha Mi ha permesso Di Di rendermi Anche una persona migliore Perché Mi ha fatto Conoscere me stesso Questo album E lo considero Visto che Nemesi Ai tempi dell'antica Grecia Era una divinità Che garantiva Equilibrio Io cercavo Questo equilibrio E l'ho trovato Lei la garantiva Sia nel bene Che nel male Cioè Se tu hai fatto del male Ovviamente Ti mazzolava Passami questo termine Nel bene Ti coccolava Mostrando comunque Un equilibrio Dando questo equilibrio A chi stava attorno Ecco Per me Nemesi È stato Trovare il giusto equilibrio Tra Il mio passato Il mio presente E quello che volevo dire E l'ho voluto Raccontare In una sorta di poesia Quindi come dici tu Diverso Da quello che è poi Il concept dell'album E arriva alla fine Proprio per trasmettere All'ascoltatore Questo senso di Visto che comunque È un album Abbastanza impegnativo Perché non nego Che non sia impegnativo Questa fase Questa fase di rilassamento Dove Nemesi Ti accoglie Io lo ritengo Proprio come se ci fosse Una persona fisica Nemesi Che Una forza sovranaturale Che Ti accompagna Nell'ascolto Dell'album E quindi ho voluto Rendere omaggio Sia con Appunto Dandogli Il titolo Nemesi All'album Ma anche Omaggiando Questa entità Che per me È importante Con questa canzone Questa poesia Più che una canzone Un raccoglimento Ecco Nell'album Poi Citi comunque Un bello d'oro Ma un arcobaleno Bianco e nero Io Conosco l'arcobaleno Ma sai La pentola d'oro L'arcobaleno Ma in bianco e nero Ma perché voleva Riflettere Un po' Quello che era Il I tempi Che stiamo vivendo Quindi è Una Una È uno specchio Di quello che In realtà Sta Sta accadendo E è successo Nel mondo In bianco e nero Perché è un po' Come se non ci fosse Un mondo a colori Ecco E quindi questo è Quello che ho voluto esprimere Tra l'altro Apro Do una news Arcobaleno in bianco e nero Sarà il prossimo singolo Dell'album Che uscirà Anche accompagnato Da un video Sempre diretto Da Lori Murati E con questo Ho voluto esprimere Un po' il disagio Un po' Quello che c'è anche All'interno Abbiamo passato Un periodo Che era quello Ad esempio Della 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 pandemia Ok Se vi passi il termine Dove in realtà C'è stato Questa Questa Anche noi Come persone E si è visto Da una prospettiva Anche come L'ho indicata io Questi arcobaleni In bianco e nero Ovvero tutto quello Che ti mostravano Che era bello In realtà C'è sempre un po' Del grigio E ho voluto trovare Questa similitudine Con questo termine Con questo Con questo simbolismo Ecco Dei tempi Che stiamo vivendo Anche E infatti La prima canzone Che compone L'album Parli di un demon In realtà Un demon è la mia morale Esatto E' forte anche questa L'ho scelta perché Perché dovevo avere Un tiro Abbastanza importante Perché volevo Subito che L'imprinting Dell'album Si capisse E un demon è la mia morale Al di là dei suoni Che abbiamo trovato Con Max Zanotti Il produttore Quale ha capito In quale dimensione Volevo portare Nemesi E Ho voluto Appunto Far vedere Alle persone Come in realtà Tutti abbiamo All'interno E' un po' il gioco Del bene e del male C'è un cerchio di fuoco Che la possiamo considerare Una comfort zone O qualcosa In cui si ha paura A oltrapassare Ma che però Non è detto Che oltrapassando Questo cerchio di fuoco Sia giusto O sbagliato C'è sempre Una parte Cattiva Un demone E poi c'è sempre Un angelo Che ti lecca le ferite Quindi c'è questa Contrapposizione Che può essere anche vista Come proprio Anche la relazione Tra le persone O anche Semplicemente Avere Un'idea di Accettare O cercare di trovare Sempre qualcosa Che vada al di là Di questo cerchio di fuoco Che è un po' quello Che è la società Che ti spinge ad avere Sempre di più Sempre di più E poi Una coscienza Un angelo Che ti lecca le ferite Quindi è molto Molto Con il videoclip Dove ci sta questa foresta Tu navighi In questa Dimensione Sì Infatti è una dimensione Con cui ci siamo trovati Con lori Di sub inconscio Ovvero C'è questo smarrimento Tutto in questo bosco Che sembra una cosa fatata Con questi colori Un po' tetri Un po' grigi Sullo sfondo C'è questa ragazza Che sembra Che mi insegua E lì non si capisce Chi è il demone Chi è Chi è l'angelo Si ha questa ulteriore dimensione In un locale Dove in realtà Si fa musica Che tra l'altro saluto Che sono quelli di Black Inside Dove hanno prestato il locale Dove appunto c'è Il palco Una dimensione Stranissima Sei tu che canti Davanti a nessuno Quindi è tutto scuro Luci Fumo E c'è questa figura femminile Che ti gira attorno E tu sei spaisato Sei un po' nel mondo fatato Di quello che è In realtà Un demone La mia morale Che differenza passa A questo mondo Passare da basso Cioè prendere da chitarra In una band Ad essere Al centro della band Cioè del tuo band E cantare le tue canzoni Ma soprattutto Con un pubblico davanti Che ti ascolta E ti osserva E non involontariamente Comunque senti Quella Comunque Quell'energia E a quel punto Che differenza c'è Tra l'una e l'altra C'è? Beh c'è una forte responsabilità Sai Prima comunque Eri In quattro elementi Barra cinque Che salivi sul palco Quindi diciamo che Ognuno aveva la sua parte Si rispettava E Si cercava di dare il meglio Come abbiamo sempre fatto Però in realtà Il frontman Non ero io Era una persona Che era davanti a me E cantava Metteva la faccia per tutti Se così vogliamo Ora la faccia Ce la metto io Ce la metto Nel cantare Ce la metto Nel suonare Ce la metto Nell'esprimermi Nel concept Di come sali Sull'album In quello che vuoi trasmettere Ed è per quello che dico Che quando un album È molto personale Alla fine Diventa Diventa difficile Dare la responsabilità Qualcun altro Di mostrare Quello che Che non è Perché alla fine L'ho scritta io Te la passo a te E ti devo imporre Di essere così Diventa difficile E si creano Questi un po' Disagi Questo Chiamiamola anche Un po' di malcontento Nel senso che comunque Cioè se una persona Non è così Non è che puoi obbligarla E quindi mi sono preso La responsabilità Di farlo Ecco In prima persona E invece Qual è stata La tua reazione A vedere Manu Gui Hai fatto ascoltare Per la prima volta I lavori Finiti A chi ti ha Stato accanto Chi ti segue Che Le persone più care O comunque Il produttore Dicendo Oltre che Comunque L'aveva già sentito In parte Però La tua reazione Nel vedere Le loro facce Manu Hai ottenuto Il risultato finale Che poi È quello Che noi ascoltiamo Allora La prima reazione Più che le altre È stata la mia Perché sentire Anche solo Alla prima Alla prima Canzone scritta La tua canzone Incisa Quindi la tua Voce incisa Fa un certo effetto Quindi è È stato Strano Sentirsi Sentirmi Su un cd Sentirmi Nella fase Del master Sentirmi Proprio in studio Come Come Figura Partecipe Di questo progetto Insieme al produttore Mag Zanotti Non avendo mai cantato C'è stata Questa Sai timidezza Questa Oddio Come si fa Come Come si arriva A queste note Come si arriva A questa espressione C'è stato un gran lavoro Da parte mia E un grande aiuto Da parte Del produttore E la cosa bella È stata Quello che sto ricevendo Adesso Ovvero tante persone Che apprezzano Nemesi E la cosa Mi fa Un enorme piacere Sto ricevendo Delle bellissime recensioni Sto ricevendo Commenti Dagli ascoltatori Quindi non solo Dagli addetti ai lavori E la cosa Mi fa Mi rende gioioso Cioè Ho fatto un bel lavoro Ecco Anche se dovrebbero Dirlo agli altri Però mi rendo conto Che da come è stato accolto È un bel lavoro Qual è il commento Che ti ha sapreso di più Della quelli che hai visto Che non te Anche ti aspettavi Che ti facesse Quel tipo di commento C'è Ho ricevuto Dei Su quasi tutte Le recensioni Proprio in modo In modo mirato L'elogio Ai testi Alla scrittura E questo Mi ha Mi ha gratificato Tanto Perché Non è una scrittura Semplice Lo ammetto Non l'è mai stato Neanche quando Proponevo alla band Anzi Avevo molto timore Di proporre I miei testi Perché C'era questa difficoltà A comprenderli C'era questa difficoltà A metterli poi in atto Ma poi mi sono Quando invece Ho ricevuto Questi commenti Il produttore Mi ha spinto Ad andare avanti In questa direzione Perché in realtà C'è stata un'intervista Dove mi hanno detto Sembri gioioso Ma quello che canti In realtà È tutt'altro Perché non fai Qualcosa di più gioioso La risposta è semplice Non sarei io Posso essere gioioso Nelle interviste Posso essere entusiasta Nell'esprimere Quello che è Un mio sentimento Una mia gioia Mi stai chiedendo dell'album Io sono felicissimo Però nei testi Racconto Quello che devo raccontare Senza mezzi termini E Magari con uno stile Di scrittura Che non è Quella da It Viva l'estate Ecco Si avvicina molto A un mondo Tipo Spero che non si offenda nessuno Marnene Kuntz Come È stato un po' Un po' Messo lì Sai Storie un po' Anche alla Nick Cave A Mark Lanagan Quindi È anche vero Che è un mondo Che mi appartiene Ed è un mondo Che nella scrittura Mi ha sempre affascinato E sono riuscito A riprodurre Appunto in Nemesi La tua anima Comunque è rock Però Quando fa rire Perché a volte Sento dire Quella canzone È triste In realtà Tiziano Ferro È not again Parla di un testo Di guerra Ed è cantata Come se fosse Di gioia Ci sono tante altre Che citazioni Di brani Che noi balliamo In realtà Parlano di Amori bruciati Morti Improvvise E quindi Però noi Balliamo Tiziano Ferro Ci ha campato Tra l'unica L'unica canzone Che abbia fatto Allegra Che è Raffaella Balla È l'unica Allegra Che ha fatto Ma le altre Sono Comunque vada Molto tristi Eppure Hanno un ritmo Gioioso Però Quindi ognuno Vive la propria musica È vero Ecco Forse a me manca Quel ritmo gioioso È più rockettaro È più Dark È più Un po' psichedelico È stato anche Un po' Descritto Però Non Non trovo Corretto Snaturarmi Ecco Il mio mondo È quello E Sono orgoglioso Di aver portato avanti Questa Questa mia idea E Avere Questo disco Ma fisica Anche il cd Sì Abbiamo stampato I cd Quindi in forma fisica Li trovate sul sito Di Divinazione Che è il mio ufficio stampa O se no Li potete scrivere In privato E Posso Appunto Spedirli Qual è stata La tua prima sensazione Nel Tangere Prendere in mano Il disco E dire Ok Questo in copertina Sono io Perfetto Le canzoni sono mie Perfetto A quel punto La tua sensazione Perché sai A volte si tocca l'aria Tu hai una cosa tangibile In mano Fisica Fisica Dire a guardare gli altri Questo sono io Questo sono Qual è la tua La tua sensazione A quel punto Quindi comprovi gli altri Che dicevi Questo sono io No guarda Ho avuto la fortuna Che anche L'etichetta Mi ha lasciato Molto margine Di lavoro E questo mi ha permesso Di creare In realtà Veramente Questo concept Perché Ho studiato Anche la copertina Ho studiato Anche all'interno Come doveva essere fatto Ho studiato Da chi andare Io sono uno che Non è che si butta a capofitto Con la prima persona Che trova Ho imparato Per esperienza Che se vuoi ottenere Il massimo Da qualcosa In cui credi Ti devi anche circondare Di persone Che parlano La tua stessa lingua È stato così Per il produttore Il produttore Io dal mio insegnante Di chitarra Mi diceva Guarda Se vuoi provare Questa strada Ti consiglio Questa persona Che era Appunto Magzanotti L'ho studiata Poi sono andato Ho capito Che poteva far per me Sono andato da lui Ho espresso Quello che doveva essere Nemesi Lui l'ha accolto In pieno Come dice lui Anche a monte Di una Di una buona produzione È perché c'è sempre Una ottima comunicazione È anche uno stesso Livello Di comunicazione Che è la cosa importante Mi sono affidato A livello visivo A un personaggio Che ho studiato Nel senso che L'ho rimurati Ho studiato i suoi video Mi piaceva questa sua visione Non convenzionale Quindi proprio nel raccontare Quello che era L'importanza del testo Io sono uno Che dà molta importanza Al testo Ho studiato Anche la persona A cui andare a farle foto E come volevo farle Quindi studiando Il suo studio Studiando Che tipo di persona era Molte Ad esempio Chi mi conosce bene È mia moglie Me le ha fatte mia moglie Qualcuna Una di queste All'interno della copertina Ma perché ha accolto Un momento Che solo lei Secondo me Poteva accoglierlo Alla stessa maniera Anche il fotografo Della copertina Che non è lo stesso Di quelli che ci sono All'interno Ma perché? Perché ognuno Ha avuto il suo ruolo In questo In questo album E vederlo realizzato Quindi vedere proprio realizzato Poi tutto il resto Quindi la copertina Dove ci sono le mani Sugli occhi E l'espressione Sul retro Dove invece C'è sempre la mano Sugli occhi Ma La bocca spalancata Come se gridassi Cioè sembra un funeruge Cioè qualcosa che continua Capito? E Tatiana L'altra ragazza Che ha fatto le foto Che poi sono la maggior parte Delle foto all'interno Ha colto questo spirito Quindi c'è una Anche all'interno C'è una visione Di descrizione Di cos'è per me Nemesi Una foto rappresentativa Sul cd E alla fine C'è una foto Molto 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 personale Molto intima Dove io abbraccio Tipo delle ali di Angelo E scrivo La poesia E c'è scritta La poesia di Nemesi Quindi L'ho vista proprio In un momento Di raccoglimento E quando l'ho avuto in mano Non ti nego L'emozione Perché comunque Dici Ok È questo Quello che volevo Cioè non è stato il vanto Ma proprio l'emozione Di dire Ho fatto Come doveva essere fatto Senza distrazioni E senza compromessi Ed è la cosa più bella Noi a questo punto Vogliamo citare anche Nel disco Chiaramente ha avuto La batteria E altri Partecipanti A questo disco Vogliamo citarli Perché visto che Comunque Hanno partecipato E Ti ha permesso Di ottenere Questo risultato Che è il disco finale Allora In realtà Abbiamo fatto Tutto io e Max Ovvero L'80 Il 90% L'ha fatto tutto Max Zanotti Il mio produttore Io arrivavo con la mia chitarra Il testo Io lo cantavo Questa è come deve essere Questa è così Lui registrava E poi ci creava attorno il vestito Quindi ci siamo messi Una volta che lui creava il vestito attorno Siamo tornati in studio Abbiamo ascoltato Abbiamo Preso degli accorgimenti Dovevano essere presi Abbellimenti diversi Abbiamo cambiato qualcosa Però diciamo che Il vestito Attorno Ce l'ha messo Max Fa un certo effetto Sentirla suonata In acustico La prima versione Sentirla suonata Poi con tutto Quel bel Quel bel impianto Di strumenti Che ci sono attorno E poi la partecipazione Che ho avuto Nel Appunto Nel 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 spingermi A cantare E non avere problemi Di dire Se ci credi In quello che stai cantando Cantalo come deve essere fatto E questo è stato È stato bellissimo È stato bellissimo E poi vorrei citare Anche Ray Esterland Che ha partecipato Con una parte del testo In inglese Su una canzone All'interno dell'album Che liberi i respiri Anche lì Lui è stato fantastico Lui mi ha aperto un mondo Cioè lui molto british Molto A livello proprio Professionale Cioè di una Di una classe È arrivato Giù In studio Si canta così Si fa così Prende in mano la chitarra Cioè Mi sono sentito onorato È stato bellissima Questa cosa Quindi è bello Un po' Bellissimo Tu hai citato Tua moglie Questa è stata La prima risposta La prima immagine Che c'è Quando tu gli hai detto A tua moglie Ho deciso di farmi Il mio disco Da solista Perché voglio Interprendere Questa strada E ho deciso E lei ti ha detto Ma E lei ti ha detto Convinto E tu hai detto Sì A quel punto La reazione sua E la tua I tuoi pensieri Quali sono stati La sua reazione È stata Era ora Era ora No Mi vedeva Che comunque Io ero molto Soffrivo Nel senso che Non avrei mai potuto Fare Nemesi Con qualcun altro Nemesi È venuto così Perché L'ho scritto E doveva essere così Senza influenze Esterne Senza compromessi E questo Ti ripeto Con la band Non avrei mai potuto Fare un album Del genere E Lei questo L'ha sempre detto E mi ha sempre detto Ste Se vuoi fare Il passo avanti Forse Non ti mancano Le capacità Dovresti Incominciare A farlo da solo E Ho sempre Tentennato Poi quando In realtà Ho capito Che Se volevo fare Qualcosa di serio Dovevo mettermi In proprio Allora Lei è stata Entusiasta E il suo entusiasmo È stato Contagioso Per me Quindi La devo ringraziare Mia moglie E Invece Tra tante domande Bislac O Esclose Le nostre Aspetta Esclose Le nostre C'è quella Che ti ha fatto Sorridere Più di tutte Perché dicendo In fondo Ho una domanda Che non ha quasi senso Ma gli do Una risposta Che forse Non ha più senso Della stessa domanda Oltre la mia Che non ha senso Infatti stavo cercando Di rimetterla insieme Stavo cercando Di mettere un po' I pezzi insieme Ma è un po' Ma è un po' Distratto Con questa domanda No No Diciamo che Comunque davvero È È stata un'esperienza Bellissima Tant'è che la sto Rifacendo Nel senso che Sono di nuovo In studio Nonostante Nemesi Sia appena uscito Ho questa Gran voglia Di scrivere Stiamo già Lavorando al secondo Album Nonostante Stiamo già Mettendo in piedi Qualcosa Per poter Promuoverlo Dal vivo Per poter Fare interviste Per poter Insomma Insomma Per essere presenti Ecco Sono partito Ecco Mettiamola così Sono partito A questo punto Progetti futuri Già me l'hai accennato A questo punto Ci mancano Solo due cose Fondamentali Dove poterti Raggiungere Per acquistare Il disco E poterti E poter Raccogliere E conoscere I due Stefano Perché c'è Uno Stefano Del disco E uno Stefano Cantante A quel punto Dobbiamo Conoscerli Se queste due persone Si incontreranno Alla fine Del tutto Nel tunnel Della musica E i saluti Allora Potete trovare E richiedere Tutte le informazioni Per l'album Sul sito Di Divinazione Milano Che è la mia agenzia L'ufficio stampa Altrimenti Che dove si possono Acquistare anche gli album Altrimenti Potete anche Scrivermi in privato Io sono sui social Come Stefano Attuario Quindi abbastanza semplice Come 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 riferimento E Cos'era l'altra domanda Non vi ricordo Ah se ci troviamo Se ci troviamo Mai sul palco Stefano Quello cantante Quello vero Sono io Io sono così Quindi per forza Ci bisogna trovarsi E i saluti Ragazzi Io non so cosa dirvi Vi aspetto Anche sui social Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo Nemesi Sono veramente curioso Vi abbraccio Vi abbraccio e vi bacio tutti Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Domande a cui non so rispondere Gesti che non so difendere Soffro di uno stato di agitazione Che non so comprendere